Le case di riposo per anziani sono le strutture più fragili e a rischio nella pandemia da coronavirus. Per questo il gesto di solidarietà compiuto da un gruppo di viareggini per lo storico istituto Sacro Cuore di Gesù è ancora più prezioso. Circa 500 mascherine sterilizzabili e quindi riutilizzabili sono state pazientemente cucite e donate ai poveri vecchi nel giro di appena tre giorni. Un grande lavoro di squadra tra maestranza e volontariato. Maurizio Rossi è il sarto che ha messo a disposizione il suo laboratorio di tappezzeria al Varignano. Nadia Vecchi, la Sarta, che ha cucito. Il materiale TNT certificato è stato donato dalla tappezzeria Armonie d'Interni all'ex campo d'aviazione e da altri donatori che rimangono nell'anonimato. La consegna delle mascherine è un sospiro di sollievo in questa infinita emergenza per il Sacro Cuore che ospita un gran numero di anziani e numerosi addetti e sanitari che da oggi possono lavorare con maggiore serenità e pensare anche a riaprire alle visite dei familiari, seppur parzialmente e con mille precauzioni. Un percorso di solidarietà che deve andare avanti, come ci spiegano i promotori Sara Santucci e Roberto Pezzini. Un gesto di solidarietà dovuto al Sacro Cuore di Viareggio che oltre 100 anni della nostra storia, i nostri poveri vecchi hanno alzato la mano, hanno chiesto aiuto e Viareggio c'è stata, come ci aspettavamo, vero? Verissimo Sara. Sappiamo che il momento è molto delicato, quello che stiamo vivendo, ma con le dovute precauzioni e in osservanza alle direttive messe non dobbiamo mettere in quarantena la solidarietà e l'umanità. Quindi ogni apporto compiuto da ognuno di voi, con entusiasmo ovviamente, ha un valore enorme per queste realtà. Ci tengo a dire che non siamo stati soli, ma che tante piccole realtà come la nostra hanno creato rete, si sono unite e hanno fatto tanto e stanno facendo tanto. Io voglio solo dire grazie alla nostra Viareggio e lanciare un appello. Chi può, faccia qualcosa e non si tiri indietro. Grazie.